Il questore di Caltanissetta ha emesso nove provvedimenti d'aspo nei confronti di alcuni tifosi responsabili dei disordini avvenuti nell'ottobre dello scorso anno in occasione della partita di calcio Gela Vittoria. I soggetti sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per porto di mazze e oggetti contundenti. La Polizia Anticrimine della questore di Caltanissetta inoltre ha emesso provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive nei confronti di nove gelesi di età compresa tra i 22 e i 30 anni. Quest'ultimi nell'ottobre dello scorso anno in occasione dell'incontro di calcio Nuova Città di Gela Calcio Club Vittoria, travisati da casche e passamontagne, armati con mazze da baseball, bastoni e oggetti contundenti, furono visti nelle vie adiacenti lo stadio Vincenzo Presti dove avevano organizzato un'imboscata alla tifoseria ospite. Nell'occasione furono lanciate i pietro contro l'autobus della squadra ospite che al termine dell'incontro fu scortata dalla Polizia di Stato fino a destinazione. Gli agenti inoltre, grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vie adiacenti lo stadio, hanno identificato i responsabili che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Gela. Così è scattato il DASPO per sette persone che non potranno recarsi allo stadio per i prossimi due anni. Due di esse invece colpiti in passato allo stesso provvedimento non potranno farlo per i prossimi cinque anni.